Una Nissan Terrano di proprietà di un operaio residente a Prato La Peligna è andata a fuoco nella notte fra sabato e domenica intorno alle 4 nei pressi dell'area parcheggio della Spumador, la fabbrica che ricade sul nucleo industriale di Sulmona. Sono stati alcuni operai che erano in servizio a lanciare l'allarme e a contattare il centralino del 115. La dinamica dell'episodio è ancora da ricostruire ma dei primissimi accertamenti eseguiti sul posto da vigili del fuoco e carabinieri si sospetta che la natura dell'incendio possa essere dolosa. Tracce di liquido infiammabile sono state rinvenute nei pressi dell'auto andate in fiamme anche se non completamente distrutta. Le fiamme sarebbero partire dal cofano e il danno non sarebbe particolarmente incente ma resta il fatto che sul caso va fatta piena luce. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei militari della compagnia di Sulmona che, coordinati dal capitano Maurizio Dino Guida, dovranno ora risalire responsabili del gesto, ammesso che si tratti davvero di un incendio doloso. Per accertare con esattezza la natura del rogo si dovranno attendere come al solito le risultanze delle verifiche seguite dei vigili del fuoco, ma al momento tutto lascerebbe pensare a un gesto intenzionale.